Ok ragazzi, ciao a tutti! Oggi si va verso la decensione definitiva. In che senso decensione definitiva? Come vedete qua abbiamo tre Game Boy, e non sono neanche tutti, perché in realtà dopo vi faccio vedere anche altri Game Boy. Abbiamo tre Game Boy con tre modifiche differenti dello schermo, come vedete lo schermo del Game Boy è come quello che vi avevo mostrato precedentemente. Questo è di un'altra recensione che vi avevo fatto, e questo però è un altro schermo ancora, quindi questo qua è un nuovo Game Boy ancora che si è aggiunto a questa recensione. Sono tre modifiche di schermo differenti, con qualità differenti di schermo, con pregi e difetti differenti. Andiamo un attimo a vedere innanzitutto quello nuovo, per cercare di capire un attimo per quale motivo stiamo facendo questa nuova recensione. Questo è il nuovo Game Boy che mi è arrivato, gentilmente offerto da un mio amico Sandro, e ha fatto lui la modifica e ha inserito uno schermo particolare, perché questa qua è la versione precedente a quella del V5 presente su questo Game Boy trasparente. Questo Game Boy infatti ha, vediamo di abbassare un po' la luminosità, ok, ha uno schermo da 36 colori, quindi praticamente non ha un OSD come questo Game Boy, ma ha uno schermo a 36 colori, significa che le selezioni sono ridotte e ha il dot matrix, che quindi è il retro pixel. Come vedete c'è il reticolato, vediamo se riesco a fare... eccolo, vedete? Il reticolato, che è rimovibile, quindi si può togliere. Andiamo un attimo a prendere un gioco... A me, caro, Pac-Man. Ok. Bene. Mettiamolo in pausa e vi faccio vedere un po' cosa cambia di questo schermo. Allora, qua abbiamo il nostro selettore del contrasto. Funzione in modo differente rispetto all'alto. Allora, portandolo verso l'alto o verso il basso, non ha una rotella che va all'infinito questo. Portandolo verso l'alto o verso il basso si aumenta la luminosità. Ma se lo schiacciamo e poi, di conseguenza, andiamo a portarlo verso l'alto o verso il basso, vedete che cambia il colore dello schermo. Allora, adesso se lo lasciamo stare, ritorno di nuovo alla selezione luminosità, schiacciamo verso l'alto ed eccole le nostre 36 palette di colore. Sono tantissime. E con delle cose un po' differenti, perché vedete, adesso abbiamo qua anche il negativo, che è una cosa che non avevamo negli altri. Il giallo. Verbe. Qualcosa che si avvicina di più, per esempio, al Game Boy Light. Questo qua è molto simile al Game Boy Light. Viola, rosa, di tutti quanti colori. 36 colori, comunque, distinti. Alcuni che sono, come questo, per esempio, più contrastato e quindi più visibile. E altri, invece, più chiari, con un reticolato, come vedete, che non è nero, ma è un reticolato più sul grigio chiaro. Quindi, di conseguenza, se noi andiamo a cambiare colore, anche il reticolato va a cambiare, diventando, praticamente, come si può dire, non essendo nero, gli crea una sorta di patinatura sopra. Una patina che si avvicina molto a quella che è lo schermo Bivert, degli schermi Bivert, appunto, dello schermo originale con Bivert. Adesso andiamo a selezionare il grigio, che è quello che si vede un po' meglio, anche a favore di camera. Ok. Eccolo qua. Questo qua è quello che si vede un pelino meglio. Vi faccio vedere uno schermo Bivert, che è questo qui, per farvi un attimo capire la differenza. Andiamo a regolare il contrasto. Questo è il volume, scusate. Eccolo qua, il contrasto. Vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete che qua sono proprio pixel questi, quindi non è un reticolato, non è un effetto pixel, questi sono proprio i pixel del Game Boy, però i pixel del Game Boy in modalità praticamente Bivert, quindi con la retroilluminazione, non sono neri. Assumono questa colorazione in tinta con il pannello. Di conseguenza, appunto, come vi dicevo, questo schermo somiglia molto a questo. Però, adesso, siccome qua la luminosità non è regolabile dello schermo Bivert, andiamo un attimo a vedere il giallo, anche qui, così riesco a farvi un po' capire quanto effettivamente somigli. Eccolo, forse questo è quello che somiglia a un pelo di più, sì. Ok, aumentiamo la luminosità, tanto per spararci un attimo gli occhi, ma per capire un attimo che effettivamente questo schermo si avvicina molto all'originale con Bivert. Molto bello, secondo me è veramente molto bello come schermo. Non puoi regolare, come in questo caso, la paletta cromatica. Io, per esempio, ho fatto la paletta del Game Boy Light, però, appunto, adesso vi faccio vedere che comunque posso cambiarle. Allora, innanzitutto, riduciamo un po' la luminosità, ok? E andiamo a cambiare la nostra paletta e vedere quella del Game Boy che avevo fatto, ecco. A voi, appunto, la scelta, cioè il giudizio, appunto, dire quale è meglio è complesso. A me piacciono tutti, eh. Questo personalmente mi piace parecchio perché i pixel, come vedete, la tramatura del pixel, il reticolato è nero. Quindi questo permette di avere più contrasto rispetto a questo. Vediamo se riesco a farveli vedere un po' tutti e due. Ok. Sì, vedete? Il reticolato nero, il reticolato invece in tinta con lo schermo, col colore dello schermo. Questo qua invece, allora, adesso vi faccio vedere questo qua che era l'altro ancora che avevo. Se mi parte il gioco. Ok. Questo qua invece non ha neanche l'effetto pixel, retropixel. Quindi appunto qua stiamo parlando di uno schermo che è la prima versione, cioè neanche la prima, in realtà è il V3, quindi è la terza versione uscita del... Beh, non parte. Bellissimo. Aspettate un attimo. Evidentemente è un po' sporca l'alloggiamento cartucce. Ecco qua. Questo, vedete, non ha l'effetto pixel, quindi praticamente i pixel che vediamo sono proprio quelli dello schermo. E non è selezionabile in nessun altro modo. Qua si possono cambiare i colori, ma sono dei colori fissi. Quindi questa è la prima versione, come vi dicevo, non è la prima, prima versione, ma è la prima versione che ho io. Quindi questo è il colore, appunto, verde, è quello che si avvicina di più a quello degli altri, come colorazione, dello schermo intendo, eh, non delle shell. E, eh, ha lo schermo, come vedete, più piccolo rispetto a questi qua, perché questa è lo schermo, la dimensione dello schermo originale. Quindi questo è lo schermo di dimensioni originali allo schermo, dello schermo, eh, del Game Boy. Mentre invece questi qua sono con uno schermo maggiorato del 15%. E, tra tutte, diciamo che questa è la versione, quella che mi convince, è un pelino di meno, perché lo schermo è un pelino più piccolo e non ha l'effetto retro pixel. Effetto retro pixel che si può togliere su tutti quanti i Game Boy, per cui se noi andiamo a fare una selezione lunga, come in questo caso, schiacciando il pulsante a lungo, adesso vi faccio vedere, ecco, abbiamo tolto l'effetto retro pixel. E, quindi, ecco che lo schermo si avvicina molto di più a questo qui. Stessa cosa si può fare con questo. Ora non andrò a toglierlo da tutti, però, appunto, era per farvi comprendere un attimo la differenza. Ok, adesso abbiamo rimpostato il retro pixel. Poi vi voglio far vedere altri Game Boy, perché non crediate che siano finiti. Quindi, vediamo tutto e facciamo, appunto, questa bella recensione definitiva, con poi tutti quanti gli schermi accesi. Allora. Questi sono i nostri due, e poi abbiamo questo qua, che vi avevo fatto vedere anche nelle altre recensioni, che è il Game Boy Color, con... Mi sa che la batteria, in questo caso, è scarica. No, ok, ci siamo. E questo, appunto, con lo schermo proprio a colori. Che, appunto, vi avevo già mostrato anche questo nelle edizioni precedenti, diciamo. Questo qua ha lo stesso schermo di questo, quindi, appunto, reticolato, in questo caso, effetto pixel, con reticolato nero. Che, però, è indispensabile su uno schermo a colori, perché, ovviamente, se andiamo a mettere un reticolato della stessa tramatura monocromatica come questa, diventa uno schifo su questo, perché vedremo una linea di colore che non c'entra un tubo e rimarrà sempre quella. Tipo, immaginate un azzurro, un azzurro su questo o un giallo, viene schifo, perché, ovviamente, poi cambiamo, cambiamo la schermata e rimane questo azzurro. Quindi, no, non andava assolutamente fatto. Quindi, questo schermo è lo stesso medesimo di questo. E qui, appunto, abbiamo i nostri tre schermi. Vediamo, scusate un attimo, chiudo la luce. Alexa, spegni luce grande. Ok. Adesso vi voglio far vedere tutti quanti gli schermi che ho, perché, in realtà, poi abbiamo anche questo Game Boy, che è l'altro Game Boy che vi avevo fatto vedere, con lo schermettino, però, in questo caso, che è più simile a quello del Game Boy monocromatico che abbiamo qua. Faremo così, eh, per vederli tutti, perché purtroppo, se no, non ci stanno nell'inquadratura. Questo qua ha lo schermo decisamente più piccolo. È uno schermo retroilluminato, per cui... cioè, non è un... è un pannello retroilluminato, è un po' particolare. Per cui, se noi andiamo a selezionare la luminosità, che è di qua, forse, dov'è che era? Ah, qua. Ecco. Si spegne proprio del tutto lo schermo. Quindi, adesso mettiamo una luminosità... Ok, questa qui. Ve lo farò vedere così, e questo però, appunto, è la versione meno che... che mi convince meno di tutti, tra tutti quanti i Game Boy che abbiamo, e poi, appunto, il nostro Game Boy con il Bivert, che però adesso vi devo un attimo cambiare la batteria, perché vedo che mi si è spento... proprio nell'istante in cui stavo facendo velo vedere. Eccolo qua, con batteria nuova. Buono. Eccoli qua. Questi sono tutti i nostri Game Boy, quindi la nostra recensione, diciamo, definitiva dei nostri Game Boy. è arrivata, io direi, anche a conclusione, perché non è che ci sia molto da dire, in realtà, su questi... Cioè, molti ve li ho già accennati, vi ho già detto come sono, come non sono... Praticamente tutti abbiamo fatto una recensione per ogni Game Boy che c'era. l'unico che ancora non vi avevo mostrato era questo, che, appunto, vi dico, essere una particolarità, uno schermo che adesso costa molto di meno rispetto a questo schermo qui, quindi, insomma, se dovete scegliere uno schermo... vedete un po' voi quello che vi piace di più. Sappiate che con questo potete andare a regolare voi tutta la paletta cromatica, quindi scegliere proprio i quattro pattern dell'RGB, quindi potrete proprio andare a cambiare ogni singolo colore, tipo il nero, metterlo blu, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, vi create voi la paletta cromatica, come io ho fatto con questa, che è questa qua, è una che ho creato io. Il Beaver è schermo originale e questo assolutamente non si discute, perché è lo schermo suo originale, con però un pannello retroilluminato, che però, vedete, è decisamente particolare come schermo, perché adesso in camera lo vedete, appunto, con questo refresh che sale verso l'alto, non lo vedrete a occhio nudo, perché questa è una cosa che è data dal refresh dello schermo della videocamera. Questo qui è quello che vi sconsiglio, perché, appunto, attualmente è stato ampiamente superato, quindi non ha senso andare a prendere questo tipo di schermo, anche se, appunto, non era uno schermo malvagio, è quando io lo andai a recensire, anzi, era proprio un bello schermo, questo qua è la versione definitiva, oddio, è uscito anche un altro schermo di questo, con lo schermo laminato, quindi, appunto, attaccato al vetro e con logo illuminato. Sinceramente non mi piace questa cosa, perché se si rompe lo schermo, se si rompe il pannello in vetro, potete buttare via direttamente tutto quanto lo schermo. Inoltre andava a segare molto lo spazio, quello di appoggio dello schermo, per cui lo schermo, se si scolla, perché viene attaccato solamente sulle parti laterali, se si scolla vi si stacca totalmente lo schermo e vi trovate con lo schermo a penzoloni, quindi non è proprio il massimo, secondo me questa è la versione definitiva per questo schermo qui. Quindi, versione definitiva per il color, versione definitiva per il DMG, versione alternativa molto valida, a discrezione, scelta più classica per rispettare quello che è la dimensione dello schermo originale per il Game Boy, Bivert, se riuscite a farlo, perché è una cosa di un complicato assurdo, quindi insomma, Bivert sì, bello, ma solamente se siete in grado di farlo, questo qua è sorpassato. E con questo appunto, questa recensione è conclusa, Io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, perché appunto fa sempre piacere, mettere mi piace se vi è piaciuto, perché anche quello è un grande stimolo, e mettere, cliccare sulla campanella che si trova qua sotto, per cui appunto avrete modo di essere avvisati ogni volta che andrò a pubblicare un nuovo video. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Ciao!